Ci chiamano canaglia, ci chiamano fanatici, perché diamo battaglia ai falsi democratici. Ci chiamano reazionari, ci danno tutti addosso, perché siamo avversari del terrorismo rosso. Noi siamo gli italiani della destra nazionale, e non i cortigiani del marxismo clericale. Noi siamo i combattenti della destra nazionale, e non c'è chi strumenti di chi non ha ideale. Noi siamo i difensori dell'ultima frontiera, di questa patria nostra che non ha più bandiera. Ci chiamano teppisti, perché non tolleriamo gli assalti comunisti. Perché noi rifiutiamo i giochi conciliari, che sono celebrati su tanti rossi attari, da tutti rinnegati. Noi siamo gli italiani della destra nazionale, e non i cortigiani del marxismo clericale. Noi siamo i combattenti della destra nazionale, e non c'è chi strumenti di chi non ha ideale. Noi siamo i difensori dell'ultima frontiera, di questa patria nostra che non ha più bandiera. Noi siamo i difensori dell'ultima frontiera. 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 Grazie a tutti.